Oggi ragazzi, discorsone, cerchiamo di dare una risposta a una domanda molto interessante, ovvero conviene acquistare una Intel Arc ad oggi? E per oggi intendo luglio 2023, o comunque date successive a sta data. Per farlo utilizzeremo una 6650 XT nel confronto, perché ecco, la Intel Arc a 750 ad oggi vi costa tra i 240 e i 260 euro in base a dove la comprate. La 6650 XT quanto vi costa? Tra i 240 e i 260 euro. E al momento, per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda il mondo hardware, è considerata un best buy per giocare in Full HD, visto il suo costo e le performance. Sarà davvero così? Conviene acquistare una Intel Arc invece rispetto a una 6650 XT? Beh, rispondiamo a queste domande dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e con l'introduzione oggi parliamo di queste due schede video, la 6650 XT che utilizzeremo più che altro per i test, non ci interessa tanto come va perché ormai l'abbiamo ben capito, ci ho portato varie build a riguardo, ma la voglio confrontare con la 750 che è in realtà il focus del video, ovvero? Vi volevo portare un video aggiornamento sulle performance attuali di una 750 o comunque di un Intel Arc, sappiamo che esiste anche la 770 perché abbiamo queste due come schede, la 380 manco la considero più di tanto, e la 770 va a circa 11% in più di questa, oltretutto c'è anche la versione da 8 e da 16GB di quella, quindi ci stanno anche vantaggi in termini magari lavorativi, se volete prendere la 16GB però vi costa di più. Ad oggi volevo valutare delle schede che non stavano nel target delle schede video delle nuove gen, quindi dalla 7600 in poi, quindi 300€ in su e la 770 soprattutto la 16GB si trova sopra. Ci sta una versione a 8GB che comunque la portate a casa a 280€, però comunque siamo fuori target a mio avviso, quindi sotto i 250€ è il target di questo video e quindi ci stanno queste due schede, ci sta anche la 6600 ovviamente ma costa 210€ quindi costa meno, anche se poi ne parliamo dopo anche della 6600. Ma detto questo, prima di parlare di test e due schede, dei test perché andiamo a fare dei test perché senza dei test è inutile parlare, beh vi invito a iscrivervi al canale ragazzi, mi raccomando, il bottoncione rosso è gratuito soprattutto per fare questi video, perdo parecchio tempo, quindi facendo test e quant'altro, quindi supportatemi mi raccomando, lasciate un like, un commentino, giù in descrizione poi chat di gruppo e se volevamo farsi 4 chiacchiere in temardue, e soprattutto canale Telegram delle offerte, che è molto ma molto importante perché se volete fare una build, volete comprare schede video ad ottimi prezzi, beh c'è due da entrare. Giù in descrizione è tutto gratuito, se volete da dare un'occhiata. Ma detto questo, prima di parlare dei test, perché sono ovviamente parlanti i test però, è giusto anche inquadrarle le tue schede perché per esempio la 6650XT ha alcuni difetti, la Intel Arc anche ne ha altri, quindi bisogna un attimo capire cosa si sta acquistando. Partiamo dalla 6650XT, è la tipica scheda video di fascia medio-bassa di AMD, o comunque in generale dei produttori attuali, ovvero una scheda video castrata. Lato linee di Pitch Express, perché infatti abbiamo una Pitch Express 4.0 ad 8 linee, cosa significa questo? Che se non è 16 linee, se noi la mettiamo su una scheda madre che è Pitch Express 3.0, abbiamo una scheda video castrata, perdiamo poco in realtà, parliamo di un 4-5% di media, però perdiamo qualcosa. Mentre per esempio la Intel Arc abbiamo una Pitch Express 4.0 a 16 linee, quindi anche su vecchi PC come upgrade, magari per vecchie schede, c'avete una 1060 su, non so, una scheda madre appunto con la Pitch Express 3.0, non perdete quel 5% di performance, tra virgolette, poi vediamo però qual è la differenza per le due schede, escludendo sta cosa. Quindi questo primo vantaggio, tra virgolette, da parte di Intel. Secondo vantaggio da parte di Intel è sull'Evram, perché l'Evram sono, sì, in tutti e due casi da 8 giga, GDDR6, però il bus e il bandwidth dell'Arc è molto più importante. Abbiamo un bus a 256 bit e un bandwidth di 520 gigabit per secondo, quindi delle RAM con molto più banda. Mentre sulla 6650 XT abbiamo 128 bit e 280 gigabit per secondo, come bandwidth appunto. Più banda sulla Intel Arc, quindi un altro vantaggio. Altro vantaggio sulla Intel Arc è il retracing, perché funziona meglio su Intel, e teoricamente sta cosa è strana, AMD sta da tanto sul mercato, Intel arriva e boom, con la prima generazione va di più di AMD. Anzi, è molto vicina alla generazione 3000 di Nvidia, non la raggiunge, però ha comunque una buona performance in retracing. Però lato AMD abbiamo anche l'FSR, che è comunque una tecnologia interessante di app scaling, che può tornare utile su un sacco di giochi, cosa che ha anche Intel, perché l'FSR funzionano tutte le schede video, però Intel ha anche l'XSS, molto più simile al DLSS che all'FSR, però sta su pochissimi titoli, quindi è un vantaggio che a mio avviso vale quasi zero. Quindi tra queste caratteristiche abbiamo capito come la Intel Arc sembra avere qualcosa in più rispetto alla 6650 XT. C'è però da dire che un altro svantaggio dell'Intel Arc è il consumo, perché parliamo di una scheda che fa 220-230 watt, anzi, in idle anche consuma parecchio, oltretutto sta cosa è da dire, mentre la 6650 XT vi fa 160-170 watt, quindi anche un meno energivora da quel punto di vista, infatti abbiamo un 8 pin come collegamento sulla 6650 XT per alimentarla, contro un 8 più 6 sulla 750, però nel complesso è anche una scheda video che tende a scaldare di più, la 750, proprio perché consuma di più. Queste caratteristiche delle due schede, vi ho detto anche con queste cose che vi ho detto magari sui consumi, però sembra che la Intel Arc ha qualcosa in più. Non abbiamo escluso i processori unit o comunque i CU di AMD, perché quello poi ovviamente è quello che dà l'effettiva performance della scheda video. Però la 750 se andiamo a vedere test in 3DMark, per esempio, test sintetici, Time Spy, Fire Strike, Port Royale, la vediamo come performa come la 6650 XT in realtà, in quegli score. Però quando andiamo a piazzare la scheda sui giochi, beh, il discorso cambia un pochino. Vi dico la testbench, perché sennò i test non si capiscono. Ho usato una testbench con un 5800X B550 Rocksteaks con Pitch Express 4.0, quindi nessuna limitazione lato, Pitch Express, linee e quant'altro, e 32GB di RAM, 2x16, 3200MHz CL16. Una bench molto semplice, non super moderna, e ovviamente con Resizable Bar attiva, perché Intel Arc ha bisogno della Resizable Bar, perché sennò perde solo con quello il 20% delle performance. Su quelli che vedete, perché i test che vi ho portato, sono con Resizable Bar attiva, quindi attenzione, se vi fate una Intel Arc, attivatela. È di vitale importanza. Detto questo, parliamo di test fatti in Full HD e in Quad HD, anche se queste schede, come vi ho detto all'inizio, puntano al Full HD e sono schede che comprare per quello. Però se giocate anche in Quad HD e volete qualcosa di entry, sicuramente sono due schede papabili, perché comunque i 60fps in Quad HD ve li fanno. Ma entriamo meglio nel dettaglio e cerchiamo di capire come vanno. La 6350 XT in Full HD da sempre paga alla 750, se non per qualche rara occasione in cui magari sono molto vicine, o addirittura tipo Cyberpunk in cui la Intel Arc va di più. Questa cosa che Cyberpunk va di più mi dà proprio l'idea che le Intel, comunque, hanno, sappiamo, dei driver molto giovani, e quindi hanno puntato ad ottimizzare i driver su cose che tanti utilizzano. Tipo Cyberpunk, tutti lo testano per capire come vanno a scadare i due ore e lì, vanno di più della 6650 XT per esempio, però in tanti titoli, vi porto l'esempio dei titoli Ubisoft, tipo Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, perde un sacco dalla 6650 XT. Vedremo infatti come poi alla fine, facendo la VG degli FPS, perdiamo tanto, ma tanto lo perdiamo per colpa di due o tre giochi che perdono davvero un casino in Full HD, ma anche in Quad HD. Però ecco, nel complesso, in Full HD perdiamo più di un 15% rispetto alla 6650 XT di media, comunque ci avviciniamo ai 100 FPS di media, ne fa 108 di FPS di media la 6650 XT in Full HD, qui stiamo a 85 circa, quindi stiamo un po' sotto, 10, 15, 20% di meno, in base ai giochi, quindi, eh, non proprio bene. Per quanto riguarda il Quad HD, queste scade video di Intel scalano bene quando salgono di risoluzione, quindi in Quad HD ci avviciniamo di più alla 6650 XT, anche se non ci abbiamo grandi vantaggi, rimaniamo comunque a 66 FPS di media su tutti i giochi, quindi comunque sopra i 60 FPS in Quad HD, quando ne fa però più di 70 la 6650 XT. Quindi continua ad avere un vantaggio la 6650 XT. E detto questo, vedendo sti giochi, comunque sono giochi importanti, vediamo Cyberpunk, Assassin's Creed, De Valhalla, giochi un po' vecchiotti anche tipo Shadow of the Tomb Raider, ed ecco lì che forse l'Intel, quando sono un po' più vecchiotti, inizia a fare fatica, o comunque che non gli interessano a tanti, però vediamo come Cyberpunk è un titolo super acclamato dalla massa e lì funziona bene. Oppure, vediamo come sui test sintetici la scade video si comporta benone, perché? Perché la prima cosa che vanno a fare i recensori, o in generale le persone per capire come vanno a scade video, fare un test sintetico. Per quanto riguarda le retracing, non ho fatto grandi test ragazzi, sta di fatto che il retracing però e la Intel Arc va un filo meglio, ma niente di così eclatante comunque, e almeno sui giochi che ho testato. E a mio avviso il retracing su questa tipologia di schede, ovvero meno di 300€ per Full HD, non ha proprio senso ragazzi, quindi nulla. Diciamo che dai test che vi ho portato capite come la 6650XT è una soluzione migliore ad oggi. C'è da dire che quel 10-15% che perde l'A750, se prendiamo l'A770 ovviamente ci avviciniamo, quindi abbiamo una scheda che va come la 6650XT, ma la paghiamo 280€ di media, quindi quei 20-30€ di più. Per avere comunque dei driver che io più o meno ho provato alcuni giochi in DX11 e in DX12. Tipo Fortnite l'ho provato in DX11, perché sono bavoso, perché comunque in DX11 è dove fa più fatica l'Intel Arc, perché hanno grandi ottimizzazioni su DX12 i driver, DX11 un po' meno. Non ho provato giochi ancora più vecchi, ho evitato in Vulkan, perché tanto già avevo fatto dei test nell'altro video che vi ho portato con l'A750 e più o meno ci stavamo. Però ecco, è una scheda video ragazzi ancora la Intel Arc che faccio fatica a consigliare a priori, soprattutto con il drop di prezzo della 6650XT, perché portarla a casa tra i 240 e i 260€ è un best buy assoluto ad oggi. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale del video, conviene acquistare una Intel Arc ad oggi? No. Se dovete prendere un'A750, no. A mio avviso, soprattutto a visto il drop della 6650XT, che ormai ve la portate a casa a un prezzone. Se proprio dovete lavorarci e non giocare soltanto, credo che la Intel Arc vi torni più utile anche l'A750, ma soprattutto l'A770 si è presa in versione da 16GB, perché c'è anche una versione da 8 che più o meno è una via di mezzo tra questa e l'A770 da 16GB. Quindi fate attenzione anche a questo se volete optare per un Intel Arc. Sta di fatto che a mio avviso è una scheda da Intel Arc con grandi potenzialità. Semplicemente i driver ancora non sono ottimizzati e vedevo di che sta passando del tempo, quindi ovviamente punteranno più che altro ai giochi nuovi. I test che vediamo qui, secondo me, non miglioreranno tanto. Vediamo però come in Cyberpunk, è un titolo che puntano alla grande, perché ovviamente è alla base dei test di tutti, va uguale alla 6650XT. O nei test sintetici siamo lì. Quindi questo già è un punto buono. Vuol dire che la Intel Arc ha comunque un'architettura che gli permetterebbe di andare di più se solo aveva i driver giusti, cosa che al momento manca. Quindi ecco, sono passati del tempo, ma i driver ancora non stanno a posto. Purtroppo bisogna dirlo e stiamo a questa situazione. Che dirvi ragazzi? Io ho più di questo, non so che dirvi. Spero che vi ho risposto alla domanda, quindi conviene. No, a mio avviso ancora no. E niente, ovviamente iscrivetevi ragazzi, lasciate un like, un commentino, soprattutto l'iscrizione, perché questi sono video importanti. Vado a fare dei test, perdo del tempo, quindi mi raccomando. E io lo faccio perché sono appassionato, quindi fatemi sapere che ne pensate. Nei commenti, lasciate un like, l'iscrizione, e niente. Un saluto al vostro Davide, al piccolo baby yodo, con la testa fluttante, e ci si vede. A un prossimo video. Ciao.